Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Stravolgiamo la nostra scaletta per riferirvi in apertura del nostro telegiornale di una tragedia che si è consumata pochi minuti fa a pochi passi dal centro storico, dalla piazza centrale di Gela, la piazza Umberto I, esattamente in via Passaniti. Le prime informazioni in questo servizio del nostro direttore Giuseppe Donchia. Sentiamo. Una tragedia familiare che scuota le festività natalizie a Gela, un episodio che lascia senza parole basiti, interdetti, poche le notizie che giungono in redazione ma quelle poche che arrivano per il nostro dovere di cronaca raccontano di una donna che per causa ancora da rilevare e da accertare ha ucciso i suoi due figli, due bambini di 10 e 7 anni. La tragedia si è consumata tra le mura domestiche in un appartamento di via Passaniti a pochi passi dal centro storico, la centralissima piazza Umberto I. La donna è stata allontanata immediatamente dalla scena del crimine e trasportata al locale Nosocomio. Secondo alcune voci non confermate, la donna, dopo l'insonno gesto compiuto ai danni dei figli, avrebbe tentato il suicidio ma sarebbe stata fermata in tempo da carabinieri e dagli uomini della vigilanza che si trovavano in zona. Nei momenti immediatamente successivi alla tragedia sul posto sono arrivati i parenti più intimi. Lo strazio e la disperazione hanno lasciato il posto alla speranza che la tragedia non fosse stata consumata. Invece adesso si cercherà di capire come si sono svolti i fatti e quale il movente per un gesto così efferato. La donna sposata con un professionista del luogo, un ingegnere, pare, secondo le prime testimonianze, abbia tentato di uccidersi gettandosi dal balcone dello stabile di due piani. Carabinieri e polizia sono alla ricerca del marito che sconvolto dalla tragedia familiare senza un perché è scomparso da diversi minuti. Altre informazioni le forniremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Torniamo alla nostra scaletta e parliamo di politica. Centrodestra in fermento a Gela domani pomeriggio nei locali dell'hotel Silene. È previsto un primo appuntamento promosso da Gaetano Trenito, Enzo Pepe, Salvatore Di Tavi e Ignazio Russo. L'obiettivo è quello di costruire un programma condiviso che deve presentare una vera alternativa al centro-sinistra e competitiva contro i 5 Stelle. Sentiamo. Prove tecniche per ricompattare il centro-destra che per molto tempo è stato, bisogna dirlo, polverizzato. Adesso voi provenite da esperienze politiche diverse ma pur sempre un'esperienza politica ciascuno di voi abbastanza lunga. Come pensate di riorganizzarvi? Allora, noi stiamo cercando di riorganizzare bene le nostre forze perché siamo convinti che tutti assieme e uniti possiamo farcela. Abbiamo iniziato questo progetto di aggregazione tempo fa alle scorse amministrative e purtroppo non ci siamo riusciti. Infatti noi come gruppo avevamo proposto le primarie perché così insieme potevamo vingerle. Ahimè, non ce l'abbiamo fatta. Stiamo ritentando lo stesso esperimento, cercando di partire da un gruppo di persone che non abbiamo nessun interesse verso la politica, se non che quello di dare ai nostri figli un paese migliore, di cercare di lasciare ai nostri figli un paese migliore. E così stiamo cercando di riorganizzare questo centro-destra che fino ad oggi è stato polverizzato. La disgregazione è stata forse la maggiore pecca del centro-destra che non è mai riuscito in realtà alle competizioni elettorali a presentarsi compatto e quindi così forte da poter ottenere dei risultati importanti. Che cosa non è stato fatto, che si poteva fare e che cosa pensate di fare adesso? Ma oggi io credo che serva una politica, un programma ed una politica alternativa al centro-sinistra e ai 5 Stelle che possa dare un risultato. Oggi bisogna avvicinare la gente alla politica perché c'è chi vota contro qualcosa e non per qualcosa. Quindi serve un programma condiviso, delle persone nuove, gente onesta, gente corretta. E chiaramente dobbiamo essere tutti noi nella nostra città a fare un'alleanza tra di noi. Quindi l'alleanza va fatta con i cittadini. Non devono venire persone da fuori che all'ultimo momento decidono chi deve fare il sindaco e fare le liste. Quindi questo è fondamentale. Abbiamo tutti fondamentalmente nel cuore il bene e la condivisione dei valori che abbiamo. Portare avanti questi valori ma nello stesso tempo cercare di stare vicini ai bisogni delle persone perché oggi non dimentichiamoci che si sta andando all'abbandono totale del territorio. Ognuno sta facendo solo ed esclusivamente i propri interessi e per cui con questo intento stiamo cercando di unire tutto il centro-destra, nessuno escluso. Cosa vi ha deluso delle esperienze politiche precedenti? La divisione. Il fatto che oggi noi ci stiamo impegnando per essere uniti nel passato, sia quando io ero capogruppo di Forza Italia che del PDL in due consigliature diverse, non c'è stata nessuna unione. Anzi c'era chi ha lavorato per dividere e questo è stato uno dei motivi che mi hanno portato a lasciare allora il PDL e a dichiararmi indipendente. I carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato Connao, Ciprian, 26 anni, rumeno con numerosi precedenti da anni residente in Italia. L'accusa è violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, guida senza patente, e possesso di oggetti atti ad offendere i militari dell'arma, chiamati a intervenire dallo stesso rumeno che aveva avuto un incidente stradale autonomo con la propria auto nella centrale via Vittorio Veneto, sono giunti sul posto per prestare assistenza e soccorrere il giovane. L'uomo improvvisamente, durante i primi accertamenti, ha iniziato ad inveire contro i militari con frasi ingiuriose e gravemente minacciose, colpendo un carabiniere con calci e pugni e provocandogli diverse contusioni. L'altro militare ha immobilizzato l'uomo. La perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire vari oggetti atti ad offendere. Il rumeno è stato recluso nella casa circondariale di Caltanissetta in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria Nissena. I militari se la caveranno con qualche giorno di prognosi. Caro Babbo Natale, per quest'anno volevamo chiederti di aiutarci a concretizzare un nostro sogno, quello di avere un porto funzionale. Inizia così la lettera scritta dai componenti del Comitato del Porto di Gela, che si sono rivolti provocatoriamente a Santa Claus, visto che la politica non riesce a risolvere problemi, spiegano, e considerato che la burocrazia li è grava con i suoi ritardi. Lo scalo marittimo in questione, il piccolo porto rifugio inogibile da anni a causa dell'insebbiamento dei fondali, è mai riattivato, malgrado venga utilizzato dai pescatori, dai mezzi marittimi a sostegno dell'attività portuale e del petrolchimico di Gela e dalle imbarcazioni da di porto. La soluzione, che sembrava vicina, ha trovato altri intoppi. In questo caso dovrebbe intervenire la politica locale e regionale? Ma soprattutto a questo punto dovrebbe intervenire quella regionale, perché parliamo del Ministero dell'Ambiente di Roma, quindi dovrebbero sbirgarsi a farci avere finalmente queste autorizzazioni per poter continuare i lavori al porto. Più volte tavoli, incontri, riunioni, però dato di fatto oggettivo, momento attuale, che nulla si è sbloccato. E questo è quello che ci fa rabbia, capisco che la politica ci dà un po' di retta dicendo che si fa, però i tempi sono materialmente lunghi, troppo lunghi e lendi. Ma cosa potrebbe portare un porto fruibile per l'intera collettività? Un porto fruibile per l'intera collettività potrebbe portare tanto turismo, perché nei porti arriva il turismo, è il cuore dell'economia il porto per una città. Gela senza porto è una città senza economia, come vediamo. Ma quando voi vedete il porto di Marina di Ragusa e il porto di Licata, provate invidia? È normale che proviamo invidia. Prima eravamo noi quelli a comandare dal punto di vista anche di portismo, oggi invece è Licata, Marina di Ragusa, Scoglitti, che fanno padroni. In questo caso un appello che vogliamo rivolgere al Presidente della Regione Crocetta? Io l'unico appello che rivolgo a Crocetta, al Presidente, è quello di sbrigarsi, darsi semplicemente una mossa velocemente, perché siamo già morti tutti. Capannoni dell'Asi in vendita. L'obiettivo è quello di chiudere velocemente l'iter di una ventina di pratiche di vendita di capannoni, già iniziate ma non concluse, prima dell'imminente insediamento dei commissari liquidatori delle 11 aree industriali siciliane. Ai commissari il compito di alienare tutto il patrimonio immobiliare dei consorzi Asi, che conta in Sicilia 264 capannoni e 1.750.000 m2 di terreni e che può garantire il rientro delle risorse necessarie a coprire la montagna di debiti e riportare al normale funzionamento l'IRSAP. I capannoni in vendita nella zona industriale di Gela sono 18. Adesso vi proponiamo un'intervista al comandante della Guardia di Finanza di Gela, Massimo De Vito. Si fa il punto sull'anno che sta per chiudersi e su quello che il 2017 potrà riservare. Sentiamo. Comandante, bilancio di fine anno per le attività del 2016, quali sono i dati che emergono maggiormente? Il dato che emerge maggiormente è di una città che sta vivendo un momento di crisi, che però da un'altra parte c'è un grande fervore dal punto di vista economico e di società che cercano in qualche modo di affermarsi sul mercato. Ovviamente il dato che le posso dare io è un dato che fa più riferimento a quelle che sono le violazioni del codice, ma devo essere sincero, a parte situazioni dove effettivamente vengono rinvenuti irregolarità pesanti come possono essere le fatture false che ormai sono diventate un leitmotiv di qualsiasi tipo di verifica fiscale, non è stato individuato un nuovo filone particolare. Per i dati conclusivi aspettiamo che il Comando Generale, come ogni anno, faccia il suo libro dei risultati del 2016 e guardiamo già il 2017 con particolare attenzione a quelle che possono essere i connubi fra pubblica amministrazione e criminalità organizzata, perché ovviamente ci siamo resi conto che il nuovo strumento da attenzionare è quando la politica si affaccia al mondo dell'imprenditoria e viceversa, creando dei connubi che effettivamente possono in qualche modo andare a creare della concorrenza sleale nel mercato e di conseguenza andare a pilotare degli episodi che creano delle distorsioni di quelle che sono la normale concorrenza. Mi dà lo spunto per farle un'ulteriore domanda. Tra le indagini più importanti di questo 2016, quali ricorderemo? Purtroppo non posso ancora parlarvi. Sapete che ci sono diverse indagini in corso, spero che i primi mesi del 2017 potranno dare un esito a questa attività. Lavoriamo, lavoriamo tanto, siamo poco presenti sui giornali perché la nostra attività va a tutelare quella che è anche la dignità del contribuente, nel senso che molte delle nostre attività possono andare a ledere l'immagine del contribuente che non è una cattiva persona di per sé perché magari sbagli nella gestione dell'azienda. Semplicemente potrebbe essere un errore contabile come potrebbe essere un artificio, qualcosa di voluto, ma questo non deve in qualche modo andare a inficiare anche la sua sfera personale. Di conseguenza lo statuto del contribuente ci intima, e noi siamo ben felici di farlo, di adottare un approccio soft con questo tipo di attività. Di conseguenza ancora non possiamo ovviamente venirvi a raccontare tutto quello che facciamo, ma la città è controllata da questo punto di vista, ve lo posso assicurare. Crisi senza freni nel settore edile gelese. L'allarme del segretario generale della Filca CISL, Franco Iudici, sentiamo. Franco Iudici, sta per chiudersi un altro anno, un anno difficile per le dirizie, più volte voi come sindacati avete lanciato l'allarme che purtroppo la crisi è galoppante, ma al momento attuale purtroppo non è accaduto nulla, anzi è una crisi che aumenta. Si aumenta soprattutto nel nostro territorio, non solo la crisi non si attenua, ma nell'ultimo periodo abbiamo perso ancora posci di lavoro, si sono persi in provincia di Caltanissetta 500 posci di lavoro nell'ultimo semestre, noi lo vediamo tramite delle evitazioni che si fanno in cassetile. Per cui se la politica in questo territorio non riesce a capire cosa vuole fare per svilupparlo e cercare di implementare le gare d'appalto che sono scese in modo spaventoso, visto che la Regione Sicilia e il Governo nazionale ci hanno messo a disposizione i fondi della comunità europea, se non riusciamo a sbloccare questo nel giro di poco tempo il nostro territorio diventerà un vero e proprio deserto. Voi avete definito il vostro settore, quello dell'edilizia, una vera e propria barca che sta galleggiando, ma che purtroppo sta andando alla deriva. Eh sì, l'abbiamo definito proprio così perché è così, perché se voi fate un giro in città o nel territorio non si vede più un cantiere d'ile, non si vede più un'opera, non c'è più nulla. Vediamo solo la disperazione delle famiglie che non riescono più ad arrivare non solo alla fine del mese ma nemmeno ad iniziare la settimana. Non riescono a fare fronte a quelli che sono i bisogni e le necessità per la propria famiglia, per i propri figli, per cui c'è una vera e propria disperazione. E quali sono le prospettive per l'anno nuovo? Le prospettive potrebbero essere buone, però ci vuole proprio volontà. Le prospettive sono quelle che alla raffineria iniziano e avvienano i processi di bonifica, l'impianto nuovo che si deve fare, la biorraffineria e tutto quello che è previsto nel protocollo d'intesa siglato nel 2014. Poi per quanto riguarda le altre cose, lo dicevo poco anzi, ci vuole una vera e propria forza di volontà nell'avviare le opere, di guardare i progetti perché i soldi, i fondi ci sono, non riesco a capire perché si preferisce lasciare collassare una città e non avviare immediatamente le opere pubbliche. Continua fino al 6 gennaio prossimo nei locali del Palazzo di Città la terza mostra di presepi, presepi in comune, realizzata dalle scuole locali e promossa dall'associazione turistica Proloco Gela. L'iniziativa, il cui ingresso è gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco, i presepi come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi, delle scuole, dell'artigiano artista, della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. È presente anche una bancarella di beneficenza del Soroptimist Club di Gela. La mostra può essere visitata dalle 10 alle 12.30, dalle 17 alle 20.30. Il 6 gennaio è prevista anche una pesca dell'epifania. Può essere visitato anche oggi ai prossimi 5 e 6 gennaio il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore, preseduta da Gaetano Davide Rizzi, appuntamento dalle 19 a mezzanotte nel quartiere Canalazzo a Gela. Potrà essere visitato da domani al 30 dicembre dalle 18.30 alle 22.30 il presepe vivente allestito nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, antistante alla parrocchia Santa Maria di Betlem a Gela, retta da Don Giovanni Tandurella. È stato ricostruito il villaggio di Betlem, costruttore semplice in cui è stata inserita la natività e le ambientazioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri. Presso il Dipartimento della Salute Mentale di Gela, in via Madonna del Rosario al numero 8, diretto da Franco Lauria, il personale in servizio ha allestito un presepe per ricordare la natività. Il presepe potrà essere visitato da tutti dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 20, dei giorni feriali e il sabato dalle 10 alle 13. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack a vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi dell'iniziativa La Stella di Solidarietà promossa a Gela per il quarto anno consecutivo dall'Associazione Antiracket Ghetano Giordano preseduta da Renzo Caponetti. Vediamo. Ritorna anche quest'anno e si tratta della quarta edizione consecutiva La Stella di Solidarietà, l'iniziativa dell'Associazione Antiracket Ghetano Giordano preseduta da Renzo Caponetti. Appuntamento giovedì 29 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nella sala conferenze della stessa associazione, il Corso Vittorio Emanuele 170. Un gesto di solidarietà verso i più bisognosi. Abbiamo deciso di ripetere questa iniziativa per dare un po' di sollievo e far passare una giornata di letizia per tutte le famiglie che hanno bisogno. Con una raccolta di derrate alimentare di primissima necessità che ci aiuteranno, la collaborazione avverrà per la raccolta attraverso le parrocchie di San Domenico Savio, di Santa Lucia e le associazioni di Gela Famiglia, il Centro Aiuto alla Vita e il Tempo di Apollo. Noi, ripeto, penseremo solo per la raccolta, per la distribuzione che ci prendono loro. E' una novità che abbiamo voluto fare quest'anno, di farla presso la nostra sala la riunione al civico numero 170 perché in quell'occasione noi condivideremo dei pensieri, si parlerà di tutto il lavoro che abbiamo fatto nel corso dell'anno, quindi ci alterneremo una volta l'anti-racket, una volta le associazioni, una volta le autorità, una volta le forze dell'ordine e poi un'altra bella novità è che proietteremo dei filmati di carattere storico che sicuramente qualcuno non avrà mai visto e anche qualche piccolo intermezzo musicale. E come è nata l'iniziativa che, lo ricordiamo, giunge al quarto anno consecutivo? Praticamente tutto questo muove dall'idea di voler condividere una piccola parte di quel denaro che abbiamo risparmiato non pagando più l'ignobile pizzo, devolverlo alle famiglie bisognose. Quindi penso che sia un gesto di solidarietà a cui i nostri associati, che già sono circa più di 170, ogni anno partecipano veramente con attenzione. Che anno è stato quello che sta per chiudersi per l'anti-racket? Allora, sicuramente un anno positivo, perché nonostante la crisi economica, nonostante tutto quello che è successo, mancanza di lavoro, purtroppo un po' di estorsioni ci sono state, però vengono immediatamente segnalate dai nostri associati che si appoggiano alla nostra associazione. Voi ricorderete che quando siamo nati nel 2005 eravamo tutti un pochettino impauriti, un po' spaventati, un po' sbigottiti da questa iniziativa, però oggi devo dire che attraverso l'associazione anti-racket, gli imprenditori hanno preso fiducia e quindi l'abbiamo accompagnati sempre a 360 gradi, l'abbiamo sempre assistiti. La Confcommercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza. Si tratta del corso RSPP, responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore, rischio basso, e del primo soccorso di 12 ore. Rischio basso e medio. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confcommercio Ascom Gela in via Cicerone al numero 104, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 per informazioni 0933 93 97 18. Notte turbolenta tra il 25 e il 26 dicembre al centro immigrati a Pian del Lago, a seguito di una lite tra un nigeriano di 27 anni, Eric Usigbe, e una connazionale. Il ragazzo, già con precedenti, per resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, minacce, interruzione di pubblico servizio e insolvenza fraudolenta, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine è andato in escandescenza, scagliandosi con violenza contro di loro. Dopo una violenta colluttazione, il 27enne è stato tratto in arresto per il reato di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato e trasferito, su disposizione del pubblico ministero di turno, alla casa circondariale di Caltanissetta. Nella colluttazione sono rimasti feriti due poliziotti con prognosi di 3-5 giorni e due finanzieri con prognosi rispettivamente di 35-10 giorni. Incendio nella notte tra il 24 e il 25 in un'abitazione in via danese, nel quartiere Provvidenza, a Caltanissetta. Provocare il rogo, una stufa elettrica che una volta surriscaldatasi, ha alimentato le fiamme del polisterolo che si trovava vicino e che poi si sono propagate nell'appartamento. Fiamme sedate grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Tanta paura per i residenti dell'abitazione che fortunatamente se la sono cavata con una leggera intossicazione da fumo. Tanto spavento il giorno di Natale per una donna romena di 39 anni che dopo essere finita fuoristrada si è ribaltata con la sua auto in contrada a Xirbi. La donna, soccorsa dal 118, ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in sette giorni. Altro incidente sabato 24 dicembre in via Malta. Un 35enne è stato investito da una Fiat Panda mentre stava attraversando. Il pedone, soccorso dall'automobilista e poi dal 118, ha riportato delle contusioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i poliziotti della sezione volanti. Risveglio brusco per Santo Stefano, per i residenti di Via Kennedy e San Cataldo. A seguito di un incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 7.30 quando un diciottenne, dopo aver perso il controllo della sua lancia Ypsilon, è finito contro una lancia musa parcheggiata sul bordo della strada, che per l'impatto è finita sul marciapiede. All'arrivo dei carabinieri sul posto erano presenti solo i residenti della zona. Il giovane si è rallontanato a piedi ed è stato rintracciato dai militari nella sua abitazione intento a dormire. Sottoposta all'alcol test è stato trovato in stato di ebrezza, motivo per cui è stato sanzionato, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Proseguono gli appuntamenti nell'ambito della 82esima stagione concertistica organizzata dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra di Gela. Domani alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Roviano Pignatelli si terrà il concerto lirico di Angelo Accuriale, soprano Francesco Cusumano, tenore e Giovanni Raddino, pianoforte. Fine c'è l'informazione cinematografica in proiezione alle 17.30 al Cineteatro Antidoto di Gela e il cartone animato Rock Dog. Alle 19.30 alle 21.30 sarà proiettato il film La Cena di Natale con Riccardo Scamarcio. Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.